Buongiorno, mi chiamo Hilbert Ziterni e sono felice di fare questa recensione a Sara e Mauro Frigatti della Frigatti Immobiliare del Corso Libertà 51 a Bolzano. Faccio solo una piccola premessa. Qualche mese fa ho cercato di vendere la casa familiare con proprietà di mia sorella e mia madre, facendo qualche pubblicazione sui giornali e con il passaparola. Posso solo dire due cose, perdita di tempo e continuo i telefonati inconcludenti. Un amico mi ha parlato dell'agenzia Frigatti Immobiliare che lavorava in maniera diversa rispetto alle altre. Mi sono affidata con fiducia Sara e Mauro Frigatti che da subito si sono dati da fare con visite organizzate solo in open house e soprattutto con il video marketing immobiliare grazie a video emozionali in grado di valorizzare la casa sui social. In un paio di settimane sono riusciti a vendermi casa ma la cosa più difficile sarà quella di seguirmi costantemente durante la malattia e la morte della mamma con proprietaria con preziosi consigli e supporto continuo per la pratica di successione ed alcune difformità presenti sull'immobile. Alla fine con grande fatica e dedizioni mi hanno accompagnato senza troppo ritardo dal notaio per il rogito risolvendo ogni nostro problema. Se volessi vendere casa in futuro mi rivolgerei ad occhi chiuse a Sara e Mauro Frigatti e li consiglierei anche al mio più caro amico perché vi ho messi alla prova e si sono dimostrati dei validi professionisti del mercato immobiliare di Wolzano.